E rieccoci in diretta per questa seconda parte di Piazza Bassanese di oggi, di martedì. Che giorno è oggi? Martedì, martedì, vediamo il giorno, vediamo il giorno, martedì 17 novembre. Abbiamo superato anche il venerdì 13, le abbiamo avute tutte quest'anno, quindi insomma, non diciamo neanche così perché non si sa mai cosa può arrivare, quindi noi sempre qui assieme, distanti ma uniti, non distanziamento sociale, ma anzi, non distanziamento sociale, non distanziamento sociale, distanziamento fisico, ma vicinanza, vicinanza che vuol dire anche essere assieme tramite questi mezzi che ci possono portare a casa di ognuno di voi e così facendo, questa è Piazza Bassanese, musica a domicilio. Speriamo di vederci presto, occhi negli occhi, nei concerti, ci mancano tantissimo, mancano tutti quanti noi. Vorrei farvi leggere, io vorrei farvi leggere la chat del gruppo, della band Luca Bassanese, la piccola castra popolare, quanto ci manca stare sui palchi, ma adesso per questo momento storico è bene stare vicini anche così per cantare e per passare dei momenti, per passarci, passarci della sana energia. A me è sempre piaciuto cantare tutto il giorno, tutto il giorno, sempre lo sapete, io ho sempre cantato da quando ero bambino e quindi voi ancora in questa piazza mi permettete di fare questo. Nonostante tutto, un abbraccio e un bacio fortissimo a tutti quanti voi. La piazza è questa strana entità, insieme di passioni e di varietà, esseri umani non condizionati, liberi a volte anche disperati, la piazza è il mondo, la diversità. dal Messico all'isola, sperduta isola, che in una mappa mai c'è stata e mai ci sarà. La piazza immagina, balla e si agita, ossigeno in una giornata idrogena, dal Messico all'isola, sperduta isola, che in una mappa mai c'è stata e mai ci sarà. Esseri umani non condizionati, liberi a volte anche disperati, la piazza prega con il corpo, la mente e l'anima. La piazza! La piazza! Esseri umani non condizionati, liberi a volte anche disperati, la piazza, il mondo, la felicità. E siamo tavole dipinte che nessuno mai scolorerà, se ci proteggiamo adesso da paure e da falsità. La piazza non fa miracoli, qui la santità e i suoi limiti, peccatori sì, ma mai venduti, diaboli. Dal Messico all'isola, sperduta isola, che in una mappa mai c'è stata e mai ci sarà. La piazza immagina, balla e si agita, ossigeno in una giornata idrogena. Dal Messico all'isola, sperduta isola, che in una mappa mai c'è stata e mai ci sarà. Esseri umani non condizionati, liberi a volte anche disperati, la piazza è il mondo, la felicità. Esseri umani non condizionati, liberi a volte anche disperati, la piazza è un sogno, è la libertà. Esseri umani non condizionati, liberi a volte anche disperati, la piazza è il mondo, la diversità. C'è la tua fantasia, che fa miracoli, c'è la malinconia, che a volte crea ostacoli. Ma se cerchi la poesia, la troverai nella follia, questa piazza è l'energia che rompe gli argini, di una vita a volte stretta, dentro ai margini. E ora luce sia, nella tua mente immagini, la piazza, la piazza. Esseri umani non condizionati, liberi a volte anche disperati, la piazza è un sogno, è la felicità. Esseri umani non condizionati, liberi a volte anche disperati, la piazza è un mondo, la diversità. La piazza è un mondo, la diversità, la piazza è un mondo. Dal Messico all'isola, buongiorno, buongiorno a tutti gli amici che ci scrivono dall'Ucraina. Un abbraccio forte, spasiva, spasiva, spasiva! E li benvenuti a questa seconda parte, questa seconda parte di piazza vassanese, in cui, allora, cambio, cambio di scena, attenzione, occhiali, occhiali. Facciamo un finale esplosivo, l'energia la più bella che ci sia per un finale super esplosivo. Ed ecco a voi, attenzione amici, amiche e amici che siete in diretta in questo momento, ZARAZAZA, ZARAZAZA. Sono affamato di giustizia e non di rabbia, perché la rabbia uccide e non perdura. Distruggere non serve, dobbiamo costruire la menta se si finisce per morire. Dimmi quali sono le cose in cui credi, è questo che conta veramente. Ciò che odi no, non è importante, è solo un voto che riempie la tua mente. E intanto passa la processione, e passa cosanto in festa. Passa anche il giorno di festa, e domani si torna a faticare. E intanto passa la processione, e passa cosanto in festa. Passa anche il giorno di festa, ma no, non passa il mio amore. Noi indipendenti, noi diseredati, noi che abbiamo i soldi giusti per la strada. Noi con l'energia presa a razza, e da voi gente la passione per ciò che è importante. Noi con l'idea che tutto può cambiare, perché nulla in questo mondo resta uguale. In giro che ovi preghiamo, mentre in coro ricantiamo. Distruggere non serve, dobbiamo costruire. Distruggere non serve, dobbiamo costruire. La menta se si finisce per morire. E intanto passa la processione, e passa cosanto in festa. Passa anche il giorno di festa, e domani si torna a faticare. E intanto passa la processione, e passa cosanto in festa. Passa anche il giorno di festa, ma no, non passa il mio amore. Carissimi, carissimi, quanti messaggi stanno arrivando in questo momento. Perla nera, la piazza siamo noi, la piazza sei tu, tu. Questa piazza che vola sopra le note della tua voce, della tua musica. Barbara Zeni, prossima diretta col maestro Florio, vogliamo cantare anche con lui. E poi, e poi, rieccoci anche noi. Un saluto alla piazza di Cedoriano Bianchi. Cedoriano, benvenuto, ribenvenuto. E Barbara Zeni, ma che piccolina che è questa nuova fisarmonica. Sì, è piccola, piccola. E suona veramente molto, molto veloce. Allora, come suona la nuova fisa? Mattia, Mattia Ducoli. Carissimo Mattia! Un abbraccio forte. Anche Mattia ha messo le mani su questa fisarmonica. Oltre al maestro Beltrami, devo dire, Mattia, che suona veramente, veramente bene. E sto volando, praticamente, su questa fisarmonica. Veramente volando. Quindi Mattia, un abbraccio forte. Complimenti. Se è una persona meravigliosa, dice, dice, dice. Barbara Zeni che regali gioia e positività. Grazie, grazie. E Marica Messina. Luca, è un grande carisma e si percepisce. Fantastico. Grazie. Ma un abbraccio fortissimo. Insomma, manca pochissimo. La piazza è quasi finita per oggi. L'appuntamento è per domani, ve lo ricordo. Domani, appuntamento. Mercoledì, martedì e mercoledì. Ore 4 p.m. Chat Central European Time. E poi Giovanna Daniele. Grazie per questo momento. Andrea Unger. Carissimo Andrea Unger. Cool, cool. Act super. Andrea Unger dalla Germania. E un abbraccio fortissimo a tutti gli amici dell'Austria, della Germania. E devo imparare il saluto in tedesco per salutarvi in diretta. Me lo devo, me lo prometto. Qualcuno mi aiuti. Chi c'è in diretta con voi che conosce la lingua tedesca. Così saluto anche gli amici che ci scrivono dalla Germania e dall'Austria. E intanto un abbraccio fortissimo a tutti quanti voi. E chiudo, chiudo, chiudo questa diretta. Chiudo questa diretta. Non ho visto Gabri Orru dalla Sardegna che gli mando un abbraccio fortissimo. Allora appena ti vedo, Gabri, ti assicuro, l'amore sostenibile lo dedico a te. Giovanna Daniele, grazie per questo momento. Grazie, grazie Giovanna. L'amore è sempre benedetto e chiudiamo così. Chiudiamo così con questo amore benedetto che ci benedica a tutti l'amore. L'amore arriva come un lampo in cielo, ci prende forte a passo di bollero. Oh papà, parabarabarapapa, parabarabarapapa, parabarabarapapa. L'amore arriva se ti colpisce in pieno, ti mancano le parole anche se vorresti già cantare. E anche se vorresti già cantare a papà, parabarabarapapa, parabarabarapapa, parabarabarapapa. L'amore sia sempre benedetto, Dio protegga i nostri cuori che senza amore siamo soli. L'amore sia sempre benedetto che senza amore siamo soli. Senza amore siamo soli come giardini senza fiori. Papà, parabarapapa, 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 parabarapapa. L'amore arriva con un bacio vero che anche se piove per te già sei vero. L'amore tu mi senti come in un beliero, abita dritta verso il mare, sempre dritti verso il sole. L'amore è un bacio vero e senza amore siamo soli. L'amore sia sempre benedetto che senza amore siamo soli. come gelati senza coni. Papà, parabarapapa, 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 parabarapapa. L'amore è come un film in bianco e nero e all'improvviso c'è l'arcobaleno. E tu ti senti come in un beliero, a tutta dritta verso il mare, puntando dritto verso il sole. L'amore sia sempre benedetto, Dio protegga i nostri cuori, che senza amore siamo soli. L'amore sia sempre benedetto, che senza amore siamo soli. L'amore sia sempre benedetto, Dio protegga i nostri cuori, che senza amore siamo soli. L'amore sia sempre benedetto, che senza amore siamo soli. Senza amore siamo soli, senza amore siamo soli. Parabarapapa, parabarapapa, parabarapapa. Parabarapapa, parabarapapa. Parabarapapa, parabarapapa, parabarapapa. Parabarapapa, parabarapapa. Carissimi amici e amiche che siete collegati in questo momento. Insomma, un grande regalo anche oggi mi avete fatto, di essere qui, di essere qui in questa diretta. E allora, e allora io saluto Anna Maccari, posso chiedere un pezzo di zero? Allora, domani, 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 ricordamelo, 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 intanto adesso vi guarderò in differita, guarderò in differita e leggerò tutti i vostri messaggi, anche quelli che mi sono perso e poi, e poi, e poi vi scrivo, vi scrivo a tutti quanti, vi ricordo per chi volesse il nuovissimo shop, andate nel nuovissimo shop, se qualcuno li incolla qui, Gabri, bellissimi siete come avete Luca domani, scusami Gabri, ti leggo ora, non ti avevo visto in diretta, e qui non ti ho cantato l'amore sostenibile, ma domani allora iniziamo con l'amore sostenibile, Fabio Mattiolo, senza amore, senza amore siamo soli, siamo soltanto dei rami senza foglie, dei steli senza fiori, siamo soltanto delle parole al vento, grande Luca, grazie, grazie, Rossella Bertelli ce l'hai fatto, te il regalo, grazie, 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 incollate, incollate qui, Lucia se riesci o qualcun altro della piazza, Alessandro, qualcuno, incolli il link dello shop, su Luca Bassanese trovate, trovate tutto quanto, un abbraccio fortissimo a tutti quanti voi, questa puntata è finita, e l'appuntamento è per domani, alle ore, sempre alle 4, ore 4 pm, Central European Time, Carmen Gelleni a domani, grazie a te, tutta la piazza, Barbara Zeni, sì, ci canti il cielo domani, per me Anna Maccari, ok, leggo, 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 dopo vi leggo tutti quanti di ferita, e intanto vi mando un abbraccione fortissimo, e buona serata, buona serata a tutti quanti voi, ovunque voi siate, ricordatevi, se state bene in questo momento, mandate, mandate tanta energia a questo mondo, perché questo mondo ha bisogno della parte migliore di voi, un abbraccio, e buona, buona serata a tutti quanti, ciao Barbara, ecco Lucia che ha incollato, ecco che ha incollato lo shop, andate qui, andate qui, se volete trovare le canzoni che avete sentito in questa diretta e nelle dirette scorse, Marta Gallisi, l'amore unisce ogni dolore, lenisce ogni dolore, colora lenisce, che bella parola, colora, colora la nostra vita, grande Luca, alla prossima, Lucia Zanotto fatto, Giovanna Daniele, grazie, un abbraccio, ciao, ciao a tutti, buona serata, ciao, 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 ciao.